Si è aggiunto anche il nome dell'ex sindaco Enzo Bianco a quelli dei 66 indagati nell'ambito dell'inchiesta denominata Università Bandita. Nelle scorse ore infatti il personale della Digos ha notificato, secondo quanto disposto dalla Procura della Repubblica, ulteriori 14 avvisi di conclusione e indagine. E fra questi per l'appunto quello approntato per l'ex primo cittadino che fra l'altro in questa vicenda si trova in ottima compagnia. Assieme a lui risultano indagati infatti l'ex assessore comunale alla cultura Orazio Licandro, ordinario del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, nonché la professoressa Marina Paino, direttore del Dipartimento stesso. Gli altri avvisi sono stati notificati a Valerio Pirronello, direttore in pensione del Dipartimento di Fisica e Astronomia. Luigi Caranti, ordinario di Filosofia Politica nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Caterina Cirelli, ordinario di Geografia Economico-Politica nel Dipartimento di Economia Impresa. Rosa Alba Miraglia, ordinario di Economia Aziendale nel Dipartimento di Economia Impresa. Bianco, secondo l'accusa, avrebbe aiutato Licandro che insegnava Catanzaro ad ottenere la cattedra Catania coinvolgendo le sue amicizie nell'Ateneo.